bello a tutti ragazzi sono sempre io yaxid e oggi siamo qui alla settima missione su stronghold allora no volevo fare così allora si 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 siamo al settimo episodio e ho già abilitato come potete vedere ah no forse non l'ho ancora fatto adesso lo faccio ah ecco si si bene posizioniamo un po' di arcieri cosa fanno questi arcieri oh salite qua perchè ce n'è uno sodio ah no sono stupidi non ci posso fare niente bene arcieri oh tutti quanti ma che stronzo bene ci sistemiamo lì andiamo a fregare quelli là intanto ruolo ancora un po' di arcieri tutti che convergono ebbene quindi stiamo già beccando un po' oh quelli di arcieri laggiù ci stanno dando abbastanza fastidio noto con disappunto beh questo l'ho già fatto prima oh 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 dai che li distruggo oh questa missione è molto difficile la prima parte poi dopo diventa tranquilla bisogna farla con molto tempismo bene ah no aspetta aspetta faccio che beccarli con le frecce così ah c'è la casa di davanti però il bersaglio un po' allora questa è una missione di quelle dove bisogna attendere fino all'ultimo attacco e va bene insomma lo facciamo allora se spaziamo via una galda tutti quanti alla fine probabilmente gli altri se ne vanno terrorizzati quindi facciamolo guarda i nostri lanceri come sono stati uh quante scale che c'erano bene ora possiamo partire e andare giù pesanti quindi oh 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 io adoro gli lanceri come credo sappiate ormai ah scusa ho consumato tutto l'ignone questo dobbiamo fare anche qualcuno che faccia l'ignone ops non si è sbagliata questa la levo e la metto migliore ok così no ma sono stupido ho capito adesso te le metto le opzioni necessarie 5 di 5 una volta ah ecco te le sono 8 quindi una casetta basta giusto per quello vediamo se posso metterle in qualche posto strano qui si metto 2 o 3 casette poi mura aggiustiamole hop oh eeeh le ho fatte un po' male ma non importa eh bene comunque raddoppiarle ci sta quindi anzi di più anche raddoppiarle le inspezzisco in un modo assurdo bene tra l'altro pensate che se voi posizionate i lanceri sopra le mura si vi buttano giù i le scale che cercano di salire quindi insomma sono abbastanza comodi ok poi in realtà si potrebbe fare adesso qua bisogna chiudere bene in modo che non possono salire cosa che io consiglio di fare il secondo livello di mura perché se voi avete doppio delle mura non parlo di fatto che vabbè sono doppie contro le catapulte però le scale si posizionano sul primo muro e non sul secondo e quindi non riescono a a salire insomma adesso ci mettiamo anche la porta chiaramente che prendiamo qui ok ops ho messo un po' troppo bene nei granaglio non è rimasto oh giusto il cibo ci sarà bisogno di qualcuno che faccia cibo ecco una cosa assurda per esempio è che si può coltivare anche grano sulla spiaggia però meglio alla fine io coltivo eh ho capito adesso fra un po' arriverà un po' di gente che te lo darà ci sono quelli che fanno la pietra per esempio che non servono assolutamente a niente perché nessuno ha bisogno di pietra con i trucchi però vabbè 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 non importa tra l'altro donazioni e poi questi li mando tutti là ci sarebbe bisogno in realtà anche di vabbè aspetta 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 questi fanno tutti i grano quindi muli vabbè mulino dovrebbe bastare facciamo un altro fornaio qui eccolo lì lo metto di di fianco ok quello cos'è? ah è quello fornaio con i barilotti di birra andate raggiù allora la nostra guarnigione è assurda ok qua fra un po' iniziano a coltivare un bel po' di cibo intanto vediamo se c'è nel mercato no peccato vabbè raddoppiare un magazzino ah l'ho ucciso cavolo era l'unica che mi stava portando del grano vabbè ci ho messo il magazzino allora questi tipi qui perché questi ah chiaro certo che non funzionano così d'anello ha più senso e al posto di quei due che abbiamo levato ci prendiamo alcuni che facciano lance che serviranno parecchio quindi giù di lance anche vai mi metto tante adesso mi faccio qualche altra casuppola perché no casuppola perché non bastano queste qui altre due casuppole perfetto oh guarda inizia a comparire la pece anche se non possiamo ancora sfruttarla però c'è siamo già quasi a metà tempo benissimo ah quanto sono fatti bene sti omini mi mancava questa grafica ultra tu vai là quanti siamo già gli alceri uno come sarebbe uno ah 18 ok presto diventa ricco diventa ricco a me è una caramella oh ecco quindi sono a salire gli archi si mentre sopra così che si rispongono tutti l'importante che non scenda nessuno per terra però non lo fanno quindi beh sapete che vi dico già che ci sono faccio una cosa figa e finisco sto muretto che era qui lo chiudo vediamo di qui diciamo che serve solo per avere un po' di tempo perché alla fine questo muretto di legno è inutile però magari mentre si mettono a distruggerlo noi possiamo poi in realtà si potrebbe anche fare di pietra una volta pazzo che sono avevo fatto tutta quest'area che vedete qua tutta di muro di pietra quindi la cosa più inutile perché dopo che lo sono salite con le scale però ha avuto stile quantomeno mi ha avuto un'enorme terrazza insomma bene mettiamo qui la porta questa qui e chiudiamo il tutto con un po' di muro di legno ok ora vediamo come era alti mi pare dice se questa parte qui è imprendibile come fanno a provare a salire 90 guarda lì quella roccia 90 allora aspettate sì 40 è chiuso insomma 14-14-14 benissimo ottimo no questo fa schifo poi i farignami stanno bastando sì bastano gli taglialegnano i farignami scusate ah questi aspetta intanto stiamo rimpompando un po' rimpompando rimpompando i nostri carissimi arcieri e lanceri sì va bene ah magari questi arcieri possiamo anche metterli no se li mettete subito lì vicino ora ne metto uno che fa davletta più decorativo che altro comunque rischiano di venire spazzati vedere le catapulte granaio oh granaio mette le azioni per ora finchè non viene un po' di cibo questo vedendo che sta facendo in attesa in attesa di cosa sta cercando di usare il grano quindi vuol dire che manca un mulino non c'è problema un altro mulino si può fare tutti lì questi due là ce l'ho il muro merlato oh ce l'ho perché non l'ho messo subito va bene adesso intanto abbiamo fatto il muro merlato metto anche qua giù che è figo si vediamo dove sono e quanti sono specialmente hanno alcuni ingegneri non tanti in realtà e continuo a fare carissimi carceri e lanceri altre reclute ci sono guardate che apporto di armi mostruoso adesso lo addoppio questo è inutile però lo faccio lo stesso eccolo lì qua in realtà la cosa sfurba sarebbe stato attaccare subito la tendina e distruggerla però vabbè non ce l'avremmo fatta in tempo eccolo lo vedete lì potente oh vieni via sali corri guardate che ce la fa salire prima che si chiuda questo adesso ho comunque insomma ne abbiamo molti di più noi che bene comunque siamo tanti sì direi che li abbiamo già stracciati perché non hanno più alcuna truppa hanno solo dei lanceri lì stanno facendo un gioco strano non lo capisco perché? da quanto andiamo a andare? boh strano io qua mi continuo a truppare tranquillo quindi oh vuol dell'armeria vai questo eh è giusto questo è posto invece apri anche questo bene eccoli che intanto quelli stanno arrivando non è niente sono andati laggiù e adesso tornano indietro cos'è? ah una catapulta continua a tirare bene stracciamo un po' e si iniziano a cadere tutti c'è qualcuno che fa il cretino da lì perché tanto da lì non gli non ci guadagnano niente distribuitevi come sapete voi questo? ah bene ora distruggeteli e anche questi li abbiamo spasati via ora ricostruiamo direttamente il nostro fortino qui ho messo un po' storto ma non importa ah ma no guarda un po' ci sono degli altri tornate poco dentro vabbè ho messo quella valiglia ho fatto un po' di slalom ora tanto li distruggo parecchio eccoli lì non si avvicinano neanche le mura catapulta pure sparita ok d'altro quando rimane solo una catapulta non non possono continuare a vivere e il granaio ha sempre un problema adesso andiamo a controllare il granaio intanto altri 10 arcieri e dopo 13 tutti qua allora questo diceva il granaio è quasi vuoto no è proprio vuoto dove sta il problema questi continuano a non riuscire a macinare abbastanza quindi io aggiungo adesso in blocco proprio e se ti levassi 3 mulini così dovrebbe bastare e poi ci sono pochissimi fornai mi sa perché vedo che continuano a rimanere poco cibo cioè rimane sempre più grano e poco cibo quindi così dovrebbero bastare senz'altro tu farai il fornaio ah no farai il mugnaio ancora meglio no è neanche un fornaio e questo? perché non c'era nessuno? anche la gif qui gif animata stilosa allora voglio vedere se nessuno va laggiù perché c'è qualche problema oppure semplicemente perché stanno andando prima i forni ah oh casa due casette eccolo che arriva adesso vediamo se si converte in mugnaio no si ecco l'infatti un mugnaio è sempre più basso degli altri un bambinetto praticamente ma ci sono dieci no sei che sono gli altri non ce ne ho ah non li ho rullati mica tutti insomma aspettiamo che ci sia un po' di popolani intanto diamo un'occhiatina ok stiamo per finire uh non riuscivo mai a rullarli tutti quanti prima che beh si forse si comunque questo livello di zoom per esempio fa venire mal di testa scusate come si può giocare così penso che una volta era normalissimo invece così anche in paio di earth è zoomatissimo comunque tutto sommato se guardate da vicino vabbè è vecchio si vede però è ben curato in particolare la grafica poi quel che è però insomma zoom così preferisco più pixeloso perché non c'è l'antiariasing anzi probabilmente non ci sono neanche le opzioni video ah si questo lo volevo si 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 risoluzione oh vabbè velocità scorrimento normale vediamo cosa succede adesso oh che spadina sminchia però c'è stia dai oddio no non ci posso credere guardate come si è alzata io pensavo che non ci fossero le impostazioni grafiche oh bene meglio molto meglio 28 lanceri è impossibile beh la spadina c'è stile prende archi al magazzino ok va bene prendi archi adesso faccio un arruolamento in blocco di lanceri è un po' tagliato in realtà con questo livello di zoom però faccio la guarnigione fuori dalle mura ecco cosa faccio e e poi ci mando appena costruisco le catapulte col mio drappelletto un po' dall'attacco mi sa ma ho fatto più di eh infatti ho fatto più lanceri che arce cioè più fabbriche di lance che di arce ecco perché ecco perché ci sono così tante lance vai andate tutti lì ho scelto la spadina al posto del mouse normale perché è più precisa nel senso che l'altro era un po' fastidioso no guardatevi la risoluzione epica meno male che ho alzato va oh sì d'accordo bene zoom ancora indietro che mi piace molto oh ma quanto è migliorato con questa risoluzione spero che adesso non si sia bugato tutto il video ma non credo perché in realtà sto registrando con Camtasia perché Stronghold non usa D-Lentix e quindi dovrebbe andare ok dovrebbe essere a posto lo stesso adesso sto facendo un bel po' di lanceri perché voglio fare proprio l'attacco finale con i lanceri e poi chiaramente anche gli alceri servono però anzi che idea metto lì direttamente e li stermino che idea assurda dai facciamo questo esperimento se poi sono troppi torno indietro tanto qua ho tempo di arruolare di tutto oh vi già speravo di avere un po' di tempo tipo ma perché sto facendo sta minchiata di mettermi qui vabbè guarda come collassano tutti gli aceri buono abbiamo meno vinta la patita no prima faccio fuori ingegnere così dai correte oh cavolo sono tantissimi anche da sopra beh tantissimi insomma ce n'è qualcuno questa è la battaglia finale quindi bene addio vai popolani vediamo quanti ne ho i popolani 13 what the fuck ne ho ben più di 13 caro beh insomma guardatevi la sfizia di popolani adesso vi lascio fuori no non posso peccato ci sarebbe stato però insomma ragazzi questo era l'episodio numero 7 adesso vediamo un po' qua c'è un bel discorsino abbiamo preso la corsica e la prossima volta ci spostiamo in campania allora ragazzi ci vediamo nel prossimo video e alla prossima ciao ciao